In attesa del girone di ritorno su Prato di Serie A2, l'Hockey Club Pistoia prosegue nella sua attività indoor. È impegnata in due manifestazioni, in una tra l'altro è la finalissima a quattro. Sì, con lo spareggio di domenica scorso contro Reggio Mila ci siamo conquistati la finale a quattro dell'Indoor Challenge che si svolgerà a Cadonega in provincia di Padova. Giocheremo la semifinale contro Cus Genova e poi in base allo scontro dell'altra partita si disputerà la finale. È un torneo non molto prestigioso, però comunque sia conviene sempre andare con l'idea di vincere che non solo di essere partecipi per vedere. Intanto ci siete riusciti nella semifinale contro Reggio Emilia, doppia partita andata a ritorno. Sì, contro Reggio Emilia è stato un incontro un pochino livellato. Poi nella gara 2 non c'è stata partita che siamo riusciti a olearci nella maniera giusta. Il risultato di 8 a 2 ci dà il pass per la semifinale. Queste quattro squadre che sono con voi nella finalissima, che tipo di squadre sono? Sono squadre che storicamente hanno sempre giocato un buon Indoor. C'è Cus Genova, anche se in categoria inferiore su Prato, storicamente giocano Indoor. C'è la Superbia Genova che è il nostro stesso girone nel Prato. e la Moncalvese che storicamente sono squadre importanti. Comunque sia, ci tengo sempre a precisare che l'Indoor è un altro sport e ha altre dinamiche. Faccio un esempio, noi contro Reggio Emilia abbiamo vinto con uno scarto di 6 gol che poi su Prato magari Reggio Emilia riesce a batterci e metterci spesso in difficoltà. E per prepararvi a questa finale a 4, a queste Final Four, c'è comunque da onorare l'Indoor League e avete l'ultima partita domenica. Sì, domenica c'è l'ultimo torneo dell'Indoor League, giocheremo la gara 1 sempre contro Reggio Emilia e gara 2 contro il Bologna, che è una delle squadre più titolate alla vittoria del titolo e quello sarà sicuramente lo stimolo migliore per riuscire a mettere insieme una formazione con motivazioni di alto livello.